Una delle più belle partite, il tuo tennis in generale è entusiasmato qui ai soci e tutti a seguirti, insomma oggi con Eras come andava? Anzitutto mi fa piacere quello che hai detto, sono contento di questa cosa e stamattina è stata una partita durissima, ho vinto 7-5 al terzo, ora con Eras che è sicuramente un ottimo giocatore, ho pagato sicuramente un po' la stanchezza, però ho fatto una partita discreta, lui è un buon giocatore, avanti col prossimo torneo. Il prossimo torneo che sarà? Il prossimo torneo sarà a Casale Monferrato, domenica prossima, ora giocherò il doppio qui, quindi prima il doppio e poi vedremo. Quanti anni hai già? 20. Hai cominciato a giocare come? Ho iniziato a 6 anni, spinto un po' da mio cugino che già giocava a tennis, e di lì è nata questa passione che sta continuando. Beh insomma in campo ce la metti tutta davvero, approfitti di tutte le occasioni che ti si presentano, ti incavoli pure quando resta qualche rovino che potessi evitare. Sì, questa è una cosa su cui sto lavorando, non è facile perché me lo porto dietro da qualche anno, spero di migliorare e so che se metterò a posto questo potrò togliermi qualche soddisfazione sicuramente. Dove vuoi arrivare? Quali sono i tuoi obiettivi? Il sogno è quello di fare il meglio di quello che ho, diventare il giocatore migliore che posso essere, ovvio un numero non è facile da dire, però i primi 50 è come idea, poi ovvio i primi 10 sarebbe un sogno. Beh guarda, è una cosa meravigliosa quello che tu ci stai dicendo, certo è che si dice, alti e dritti, lo sai, bisogna essere alti e lo sai. Il dritto, come sta il dritto? Eh, potrebbe andare bene. Va bene. Quando si dice che bisogna picchiare, bisogna anticipare, bisogna stare dentro, perché tutti alla fine giocano tutti bene, eccetera, tu cosa ci dici? Beh che sicuramente è vero, poi a questo livello qui Challenger si nota ancora di più, tutti i giocatori sono di alto livello e quindi chi spinge di più, chi gioca più aggressivo sicuramente ha più chance di vincere. Parliamo della valoreazione fisica, ecco, della tua velocità, della tua mobilità, della tua... Eh, sì, diciamo che per l'altezza penso di muovermi bene, di essere abbastanza veloce, agile, ovvio che potrei fare meglio. A Tirreno, dove mi alleno, siamo seguiti molto bene, facciamo parecchia preparazione e sì, quindi penso sia una cosa fondamentale anche nel tennis di ora, la preparazione fisica. Assolutamente sì. E Navarra, tu sai qualcosa di lui, noi sappiamo tutto. Sì, no, è ovvio che il rapporto tra me e lui è un rapporto, diciamo, consolidato da qualche anno e da due anni che lavoriamo insieme e sicuramente per me è molto stimolante lavorare con lui perché penso sia stato, cioè, mi hanno raccontato, perché non l'ho mai visto giocare in match che era un grandissimo talento, un grande giocatore, quindi mi sta dando una grossa mano. Ogni tanto diamo testa a testa, però sicuramente una persona fondamentale per me è crescita. Certo, allora un consiglio che ti do, fatti dare tutto quello che è l'invenzione. Ecco, già ce n'hai molta, però lui era proprio uno che inventava quando le cose si incasinavano. Bene, comunque è un piacere averti conosciuto. Piacere mio. Attraverso il mondo di E.S. presentato a tutti gli appassionati, perché poi alla fine siamo qui per loro, per i bambini, e un grande in bocca al lupo. Allora ci vediamo al doppio. Grazie mille, ci vediamo. Ciao, 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 grazie mille.